Parliamo un po' di te, quando è nata la tua passione per l'equitazione? È nata per caso, nel senso che da piccolina mia mamma sia me sia mia sorella ci portava a fare pianoforte, pallavolo, nuoto, tennis, equitazione e poi montando a cavallo ho sempre fatto di più e poi mi sono trovata a fare quello che ho fatto, non era pianificato La tua prima esperienza con la maglia azzurra? Allora, primi campionati, direi junior, campionati europei junior nel 98 e primo internazionale all'inizio del 98 prima un 1 stella, poi ho fatto un 2 stelle e poi ho fatto i campionati italiani junior che erano un 1 stella Da quando hai iniziato ad adesso, sono passati un po' di anni, hai visto qualche cambiamento in questo tipo di gare? Sì, tanto, i percorsi sono cambiati tanto, sono forse meno di coraggio e più tecnici, sono diventati decisamente più corti non c'è più lo stipul, non ci sono più le marce, quindi è cambiato tanto, il livello del dressage è diventato molto più alto saltostacoli, beh, certi giri tipo le olimpiadi dove si fanno due concorsi se si è nei primi 25, insomma nella prima parte chiaramente è cambiato, però ecco, molta differenza proprio nella costruzione, nel livello tecnico, nei percorsi di cross e lo standard del dressage che è migliorato notevolmente Quale è la cosa che tu ami di più in questo sport? Beh, il cross, altrimenti monterei un dressage in concorso e peraltro in dressage ho anche montato, quindi ecco, cross, dressage, salto per me e poi, vabbè, adesso monto anche in corsa perché mio marito essendo allenatore di cavalli da corsa ex Fantino monto anche in corsa, però appunto al momento sono a terra Vuoi dare un consiglio a chi vuole intraprendere una carriera come la tua o anche solo iniziare ad approcciarsi al mondo dell'equitazione? Ma che nonostante in Italia purtroppo al momento sia un po' complesso perché le gare non sono molte è uno sport bello che secondo me comunque sia a contatto con gli animali aiuta come tutti gli sport per la verità, nella crescita della propria persona, del proprio carattere e secondo me è un bellissimo modo per impiegare il tempo anche nei weekend, quindi ovviamente io lo rifarei Puoi essere anche a contatto con un animale? Certo, no no, sicuramente per quello che dico, quindi anche il rispetto, la disciplina, non dipende solo da te non puoi decidere, cioè diciamo a livello positivo e negativo però non puoi decidere che te ne vuoi andare in vacanza per tre mesi perché comunque sia appunto non è magari come andare in bicicletta o giocare a pallone che puoi dimenticare il tutto per un periodo e poi riprendere insomma ci vuole una certa costanza, una disciplina secondo me aiuta la crescita proprio personale sia di carattere sia della formazione di persona Volevo ringraziare gli organizzatori che finalmente c'è un posto nuovo per me è la prima volta, non ero mai stata e volevo ringraziare molto e speriamo che continuino a far le gare che per me è anche vicino a casa, quindi sono molto felice di questa nuova cosa, grazie